Vengo parlo, ma questa roba è stata l'ambracore. Ma chi? Forse può bucciare. Vediamo che guarda. Eh, noi chiamiamo dai. Lascio pensare, affrisci e fa lo strusso. Ma no, è una scopata. Siamo amici. Ma non va bene, pochettino. Ma chi? Ma ti ho dato un assotto in bocca. Ho saluto con queste, pochettino. Ma con quali? Lasciate pensare, lasciate pensare, per favore. Adesso andiamo a puri sordi. Ancora! Ma questo è qua, vuole essere magro. Ah! Ma lasci passare, forza sia! Scusa, ma se pagano quanto? Solo che chiedi? 50 euro, 30? 40 euro. Ti è, ti è. Quanto le serve? Ma il pescatore? Vabbè, al pescatore sono tutti delinquenti, eh. Ma lui? Ma lo lasci stare! Ma lo lasciate pensare! Ma lo lascio perdere! Ma lo lasci stare! Oh, c'è un bambino piccolo! Ma fai legge, per cosa sia! Vabbè, ma io devo chiamare, tu guarda, ma fai legge, per favore! Ti devi chiamare? Ma fai legge! Mercadice.rope lo conosci. No, siamo un sogno di noi. Eh, eh, eh. Ma fai legge, che cosa sia! Voi che l'ho lavorato con l'indiccia! Ma io vorrei sapere però quanto costano questo! Ma lascio stare, ma lascio quante settantane! Ma chiamare una qualcuno, per favore! Ma lascio stare! Ma me ne puoi offrire una sigaretta o no? Ma chiamare una qualcuno, per favore! non riesci a aprirlo ma lascia per favore come non riesci a aprirlo? oh ma lascia per favore te l'apro io Enzo? ma lascia sta te l'apro? oh ma lascia sta è un discolo mai eh eh qua ha aperto dai bene va ti vedo un po' indeciso però Enzo ma lascia sta eh si posso fare un po' d'acqua? un po' d'acqua? Enzo chiede un po' d'acqua si arriva subito tu l'apro questi vedi questi qua quali? oh lascia lascia ma me l'ha detto Dio ma la cera che la metta lì ma lo fai vecchio porca Dio sempre tocca la macchina mi scappaccio proprio Dio ma l'acqua non la vuoi più ecco arriva l'acqua ma ti capiva la macchina ma che non è possibile? ma l'acqua le massaggiatrici mi sono andata a rompere i voglioni se ne fossero muoviti ah le massaggiatrici non avevo capito che erano che erano le massaggiatrici scusa non avevo capito Enzo andiamo in greco sei a voi ragazzi guarda che spero è carita bravo che ne sai del greco? ho fatto pure una teca vedervi e come ti diceva? vedervi è la vita mia e come ti diceva in greco? parla a te va bene me fa parlare si sa parla io parlo io parla a te vedervi è la vita mia mi dico di cosa mi dico di una madre mi dico di una madre mi dico di una madre quindi mi dico di una madre Penelo anche la mia moglie è la greca ma tesi ascoli in grecia o quindi? scusa non ho detto io parlo io o parla parlo io parlo io non so che si parla parla Penelo è la greca coli il nome di x� io sono i x� ma pensi a xh di xh gli sono i xh e in isola di xh mi dico la notte, mi sono andata un pallizzone, lo stai parlando di lui? io sono l'inguagra che aveva due anni, cari e spera che vuol dire? ti amo ti amo, lui lo sa è stato con Fenerife vero? si però per una cosa adesso c'è l'aspetta di risa di un uccidente non lo andiamo alla mamma, non lo andiamo alla mamma aspetta, aspetta io per fare questa azionale e poi ti incassi dai non lo andiamo alla mamma, non lo andiamo alla mamma vabbè mi faccio? vabbè non lo andiamo a fare con lui mi faccio stare non lo andiamo a fare con lui mi faccio stare con lui è vero? io devo fare con lui se lo accendi qualcuno? io no non lo andiamo a fare con lui No, lei non può perché c'ha un braccio mutilato. Ma perché ti ha dato la sigaretta? Ma stessi quest'ultima, la polizia! Ma ti ha preso l'accendino! Ma perché? Ma tu hai chiesto di accendere, lui ti ha provveduto... Non c'è stata la signora io! Eh, però non ce l'aveva la signora, lui aveva l'accendino e te lo sta dando. Ma lui ha chiamato moglie, prego! Hai chiamato moglie, ma... Lui ti sta a fare una cortesia! Ho capito? Ma tu perché ti impunti che vuoi per forza che te lo faccia vendere lei? Perché ti piacciono le donne! Perché ti piacciono le donne? Ah, vabbè... Ma la polizia! No, no! Ti piacciono? Ehi, ah! Ma che cazzo fai? Guardi con me da Riccardo! Guardi con me da questo! Guardi con me da questo! Cari mea, cari spero! Ma la so scuola con io, Penelope! Penelope! Si chiama Riccardo! Eh, infatti proprio la polizia, perché la pensi si chiama Riccardo! Questo è il codice russo! Se me li tocchi li giochi a me i quadri eh! Se me li tocchi li... Oh, vai, vai, vai! Non ti chiamare i quadri! Non ti senti male! Dove stai a cedire? Mi chiamai a cedire? Mi chiamai a cedire? No, perché il suo! Mi chiamai la polizia un po' Mi chiamai a cedire? Mi chiamai a cedire? Il codice rocco lo conosci? Dove ci ha messo lì? Mi chiamai a moce! Eh, 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 l'allà! Quello? Mi chiamai a cedire? Niente, tu ormai si è impuntato che tu devi andare a cedire a lei e la devi faccenda di te! Signorina, puoi fare a cedire? Fa la cedire? No, no dai, per favore! No, non fa schifo eh! Ma non puoi di che fa schifo a cedire? Marina militare, vedi? Signor Tomasso! Signor Tomasso! Signor Tomasso! Signor Tomasso! Lei non è una donna! Lei non cedirà! 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 Io sono 50! Eh? Ero la Maria Milano! Che è lei? Oh, dai! Grazie! Scusa, buon lavoro! Ciao! Bravo Enzo, grandi! Oh! L'abbiamo fatto!